Può un vincolo paesaggistico su meno di un chilometro di tracciato inficiare un'opera strategica per un ampio territorio? Evidentemente sì, se è vero come è vero che il completamento della Fresilia è in forte discussione. Eppure basterebbe la volontà politica per sbloccare una situazione che ad oggi sembra paralizzata. In via Berta si è svolto un consiglio provinciale proprio sul terzo lotto della Fresilia che dovrebbe collegare Bifernina e Trignina passando per Frosolone. C'è un tracciato, il tracciato per cui era stato dato la concessione alla provincia che ricade in un'area vincolata paesaggisticamente. Non è quindi un semplice cavillo ma è un problema sicuramente complesso che non nasce oggi, un problema che c'è sempre stato da quando si è scelto a fine anni 90 da parte dell'allora governo regionale di procedere con un determinato tracciato. È chiaro che rispetto a questo vincolo vanno portate avanti delle procedure. Va modificato il piano paesistico regionale. Su questo noi come provincia abbiamo anche dato la disponibilità inviando una proposta di variante, sebbene non ci competa ma noi non dobbiamo ragionare e sono convinto che così stiamo facendo, non dobbiamo ragionare di competenze quasi a chiudere semplicemente l'incartamento ma dobbiamo ragionare di risolvere il problema. Ecco io sono convinto e fiducioso che in questa direzione quanto prima ci sarà questa variante da parte della regione che consentirà di sbloccare definitivamente l'iter. D'altronde questo è un tracciato che come condividono la provincia, i comuni, i territori in genere condivide anche la regione che non a caso ci ha dato la concessione per questo finanziamento. Per cui credo che questo gioco di squadra possa portare in dirittura d'arrivo un intervento che ripeto è prioritario per quell'area. All'assise sollecitata da Saia e Lianiro hanno partecipato i sindaci interessati alla realizzazione dell'arteria. Hanno chiesto al presidente Ricci di intervenire in regione affinché l'infrastruttura non sia definanziata. Chiaramente noi chiediamo che l'opera non venga messa in discussione perché è un'opera assolutamente fondamentale per lo sviluppo delle aree interne, è un'opera alla quale ci si sta lavorando da tanti anni e quindi in questa fase storica è necessario lavorare affinché tutte queste criticità che sono state evidenziate e che mettono a rischio l'opera, in particolare per quello che riguarda i pareti relativi alle belle arti, vengano rimossi sollecitando chi di dovere. Ci deve essere la volontà politica di tutti gli attori coinvolti in questa vicenda a voler superare tutti questi ostacoli. Io credo che debba prevalere il buonsenso affinché l'opera venga realizzata. Noi chiediamo che la regione prenda atto della essenzialità di questa opera e si attrezzi perché sembrerebbe gli strumenti ci siano per in tempi celeri dare le autorizzazioni che sono propedeutiche alla autorizzazione. Sembrerebbe al rilascio delle autorizzazioni che c'è sia il vincolo ambientale sia il vincolo ministeriale. Però sia l'uno che l'altro se si fa incetta di buona volontà e ci si adopera in maniera fattiva per l'eliminazione negli stessi è plausibile, è possibile che si ottenga il risultato sperato. Il Consiglio regionale dovrebbe dare mandato al Presidente di adottare i provvedimenti di legge in deroga a quelli che sono i vincoli. Questo potrebbe essere una strada fattibile. Si potrebbe anche ragionare di indire una conferenza di servizio però poi si travedicherebbe nell'ordinario i tempi si allungano necessariamente. Quindi insistiamo nella possibilità di valutare e trovare soluzioni in deroga che sembrerebbe ci sia la possibilità di ottenere.